Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi siamo tornati con una guida a un modulo, quindi tattiche e istruzioni, lo sapete. Un modulo un po' esotico per le mie corde, un modulo che però mi ha dato tante soddisfazioni su FIFA 19, un gioco dove tutti quanti volavano tra tornadi e cose strane. Io invece ho scoperto e riscoperto questo modulo utilizzandolo, giocando palla a terra, veramente dando anche filo da torcere a livello competitivo a chi utilizzava i soldi inflazionati 4-4-2, 4-2-3-1, col mio talisca Carnibal che faceva il devasto in mezzo al campo. E sto parlando del rombo, ossia il 4-1-2-1-2, tra parentesi 2, diciamo il modulo di Hollywood, no? Se siete avvezzi al mondo di Twitch e anche al mio team, visto che Holly è il coach del mio team. Andiamo a vedere come lo interpreto io, quindi quelle che sono appunto tattiche e istruzioni e vi dirò anche un po' quelli che sono i giocatori chiave ruolo per ruolo. Quindi lo sapete, classico cambio di scena che arriva subito e ci ritroviamo sulla schermata in game. Quindi questo è il modulo come appare, classico albero di Natale. Andiamo però a vedere quelle che sono inizialmente le tattiche. Tattiche che vado ad utilizzare sono equilibrata, con ampiezza 5 e profondità 6. Vado ad utilizzare ampiezza 5 perché il modulo che andiamo ad utilizzare in questo caso, il rombo, è una formazione notoriamente stretta, chiusa. Quindi noi abbiamo bisogno comunque di avere un certo tipo di ampiezza per evitare che la nostra squadra venga schiacciata sulle fasce dai classici moduli che girano, appunto vi dicevo anche prima, 4-4-2, 4-2-3-1 e via discorrendo. Per quanto riguarda la profondità, io utilizzo 6. Lo state vedendo, bene o male, in tutte le guide che vi porto, utilizzo una profondità abbastanza alta, ma nel caso del rombo, ancora di più. Perché con una formazione del genere, preferisco stoppare sul nascere, lontano dalla mia porta, quelle che sono eventuali minacce avversarie, piuttosto che arrivare a dovermi schiacciare negli ultimi metri, dove appunto potrei andare a risentire del fatto che, utilizzando una formazione stretta, le ali del mio avversario sono più facilmente scoperte. Inoltre, questo è un qualcosa che si ricollega anche a quello che andiamo a vedere dopo nelle istruzioni, perché infatti ci sarà una chicca per chi si sente, diciamo, un po' più sbarazzino e vuole utilizzarlo così. Per quanto riguarda invece stile d'attacco, abbiamo ancora una volta equilibrato, abbiamo ampiezza 7, per cercare di allargare un modulo stretto che vive di scambi ravvicinati, però proprio per questo, se voi questi scambi ravvicinati poi riuscite a giostrarli negli ultimi 20-25 metri, allargando i vostri giocatori e così facendo allargherete anche la difesa avversaria, sarà più facile poi penetrare al centro, che è praticamente quello che è lo scopo del rombo, ovvero attaccare per vie centrali, magari anche con i cosiddetti filtranti epici, sempre alla Hollywood. Per quanto riguarda i giocatori in aria invece abbiamo 4, quindi un valore relativamente basso, visto che appunto gli scambi voglio che avvengano fuori aria e vado poi a lanciare la punta, o una delle due punte, per andare a segnare, quindi voglio che i giocatori si trovano a dialogare fuori dall'aria e non dentro, visto che è un modulo che vive di scambi veloci, di scambi rapidi, di 1-2, eccetera, eccetera. Angoli e punizioni lo sapete, sono i classici parametri per evitare di prendere fantastici contropiedi sulle punizioni e sugli angoli. Per quanto riguarda le istruzioni, la prima novità alla quale accennavo prima parte proprio dalla difesa, perché io ai terzini lascio esattamente attacco equilibrato, non metto resta dietro in attacco. Questo perché? Perché avere i terzini che praticamente joinano la manovra offensiva vi dà una marea di sbocchi in fase offensiva veramente notevole per mettere in difficoltà il vostro avversario. Vero è che se perdete palla e l'avversario è bravo a ripartire, magari potete essere scoperti. Allora vi vengo in soccorso, se non siete abili e ovviamente magari state iniziando a provare i terzini offensivi, o neanche offensivi bilanciati, potete fare una cosa. Uno lo mettete sul resta dietro in attacco e l'altro lo lasciate equilibrato. Se poi invece non ve la sentite, mettete tutti e due sul resta dietro in attacco o se proprio siete paxi o volete recuperare una partita, io spesso e volentieri utilizzo partecipa all'attacco. Quindi non sono io che me li butto in avanti i terzini alternandomeli, ma saranno loro che di loro proprio preset si buttano in avanti ad aggredire lo spazio. Anche questa è una opzione secondo me molto molto viabile. Per il momento però lasciamo lì così su equilibrato. Per quanto riguarda il mediano abbiamo invece resta dietro in attacco, copertura al centro, quindi classicone. Per quanto riguarda le due mezze ali invece abbiamo basico, copertura sulle fasce però, perché ovviamente abbiamo il mediano che copre al centro, le due mezze ali devono cercare di coprire un po' sulle fasce per evitare che vengano saltate praticamente secco e si ritrova sempre il mediano in inferiorità numerica in fase difensiva. Per quanto riguarda il COC invece abbiamo semplicemente rimani in avanti senza svaria perché io voglio che il COC sia lì. Io lo so che dove sta, deve essere assolutamente il mio perno di riferimento dal quale passano praticamente il 90% delle manovre offensive e delle trame offensive. Stesso discorso vale anche per le punte perché alle punte infatti non abbiamo solo inseriscite alle spalle ma abbiamo anche rimani centrale. Infatti io non voglio che le mie punte vadano girovagando per quella che è la tre quarti avversaria, voglio che stiano esattamente lì, in quella porzione centrale, per sfruttare quelli che sono appunto scambi veloci di cui parlavo in precedenza. Quindi per questo motivo utilizzo questa impostazione. Andando a vedere rapidamente quelli che sono invece i ruoli chiave, è ovvio che per quanto riguarda il mediano abbiamo bisogno di un giocatore difensivo al 100% che stia lì a fare la legna e spesso a tappare anche i buchi lasciati dalle mezze ali. Mezze ali che ovviamente devono essere dei giocatori totali, quindi sia attacco che difesa, quindi Gullit è praticamente il principe e il re di questa cosa, ma altri giocatori interessanti potrebbero essere un Bruno Fernandes, un Pogba, un Firmino If, insomma un De Bruyne, giocatori di questo tipo. Per quanto riguarda il C.O.C. io gradisco avere un giocatore che abbia 5 di piede debole, ancora meglio se abbia anche 5 di skill. Preferisco in questo caso il piede debole perché dovendo smistare tanti palloni non vorrei mai ad esempio a C.O.C. un Salah che con 3 piede debole vi sbaglia magari anche un passaggio semplicissimo fatto col destro. Mentre per quanto riguarda le due punte abbiamo bisogno di due punte innanzitutto veloci e in seconda battuta anche fisiche in quanto devono andare spesso via in velocità con i fake shot eccetera. Quindi Ronaldo anche qui è il re, ma ovviamente pensando a giocatori dal budget accessibile a tutti penso subito a un Rashford, penso magari, che ne so, ad un Aubameyang. Giocatori di questo tipo, giocatori fisici ma che sanno anche andare in velocità e ovviamente sono anche in grado di finalizzare. E nulla. Per quanto riguarda sta guida, regà, questo è. Fatemi sapere nei commenti se qualcuno di voi utilizza questo modulo, se l'avete provato, avete intenzione di provarlo. Mi raccomando lasciate like, iscrivetevi al canale che stiamo crescendo bene. Io vi aspetto, regà, ogni giorno è live sulla piattaforma Viola, lo sapete, trovate gli orari in descrizione con annesso link. Io vi saluto, mi raccomando, fate bravi. Ciao ciao.